il cagnesco quindi colgatolo a sinistra e ne piazzo uno qua e l'altro lo metto qua così si collegano ok perfetto poi cosa c'ho una resistenza la resistenza che tra l'altro parte da qui no part si stava in mezzo io mi quindi io la faccio più qua e collego il vento ok questa resistenza va a finire fra un led l'altro dio l'altro dio va verso destra di tre e poi in questo c'è il led che il led si collega l'altro dio non si collega al led uno che è questo ok dalla resistenza dio l'altro dio uno e qui c'è l'altro led questo va a massa questo va a massa io ho sbagliato questo va a massa io ho sbagliato questo va a massa 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 questo va a massa